Le problematiche del sistema sanitario e socio-assistenziale della provincia di Matera e della Basilicata anche attraverso il confronto con esperienze e modelli già realizzati in altre regioni. Se ne discute a Matera in occasione della due giorni del convegno la sanità territoriale, sfide e prospettive organizzato dallo SPICGL. Tra i focus la realizzazione su tutto il territorio nazionale di 1.350 case della comunità entro il 2026, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In Basilicata le risorse consentiranno la realizzazione di 17 case della comunità. È prevista anche l'attivazione di 5 ospedali di comunità e di 6 centrali operative territoriali. Sono presidi delle comunità, luoghi in cui la comunità può trovare una risposta concreta ai bisogni di salute. Devono essere riempite di personale. Questa è la grande questione di oggi. Sanità territoriale che in un territorio come quello della Basilicata è assolutamente fondamentale ed è il motivo per cui abbiamo deciso di portare questa esperienza dalla Toscana, che è la Toscana del nord-est che ha una conformazione orografica simile a quella nostra, che ci dice che effettivamente già hanno iniziato con le case della salute nel 2014 e che la trasformazione in case della comunità evidentemente è assolutamente possibile. Di questo evidentemente noi incalzeremo come abbiamo incalzato in tutto questo periodo attraverso tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato, perché in Basilicata la sanità lucana è in criticità, nella sanità materana è in condizioni drammatiche. Come un'altra! Grazie.